Sei anni, la pena complessiva inflitta da Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per la tentata violenza su Martina Rossi e per la morte in conseguenza di altro reato. Si è chiuso così il processo con il verdetto pronunciato intorno alle 18 dal Presidente della Corte, il Giudice Angela Avila. Dunque gli imputati per il Tribunale di Arezzo sono colpevoli. Alla fine, dopo una lunga attesa, la commozione del padre di Martina, Bruno Rossi. L'avevamo aspettato tanto tempo e io credo che la giustizia italiana, il lavoro che è stato fatto, ha prodotto delle cose importanti nel nostro cuore, quello che abbiamo. Grazie. La madre ha preferito non parlare, per lei però l'avvocato di parte civile Luca Fanfani ed il collega di Genova. È una sentenza che ribalta quella che era la verità secondo l'autorità giudiziaria spagnola e questo non può che implicitamente ma neppure tanto contenere un chiaro messaggio e un chiaro giudizio sulla qualità con cui sono state svolte le indagini Spagna e con cui è stata trattata la morte violenta di un nostro concittadino. E questo mi porta a dire che forse sarebbe opportuno, anzi senz'altro lei, che l'autorità giudiziaria spagnola o chi per lei chiamasse i genitori e porgesse le scuse a nome della Spagna. Ma non commento, le sentenze si impugnano, le sentenze si impugnano, sono assolutamente sicuro dell'innocenza del mio assistito. Ci sono tre gradi di giudizio, se ci sono tre gradi di giudizio evidentemente perché i giudici possono sbagliare.